Buongiorno, adesso che anche voi avete constatato che è un buongiorno, passo la parola a Yuri Bene, Yuri non vuole essere ripresa Salute, prego, salute due Grazie, prego due Finalmente oggi posso provare quella torta che ieri Yuri non mi ha fatto nemmeno toccare Of course, perché ancora non l'ho assaggiato quindi Con dei pezzi mancano non so per quale motivo Prego Grazie, ogni volta grazie per la parola, io direi, tutte le volte It's fantastic Vediamo a quanti subscriber siamo arrivati, Yuri Rispetto a quando abbiamo smesso di pagare gli annunci per i nostri video Allora se non ricordo male erano 152 154, Yuri Yay Yay un cazzo Oggi la testo con un quiz alla portata di un koala Quando ero 6 anni, mio figlio era 3 anni Ora sono 70 anni Questa è la tia, è la tia 67 Sei bene, sei troppo smart Ti dici alla camera E' E' Yes Perché normalmente la gente piatta di dividerare l'age Esco in balcone e trovo le piantine di melanzane che Sparano un po' d'acqua Oh non mi morirei proprio adesso Tutta quelle foglie Pulisco l'intera casa da bravo puttanone casalingo quale sono E mi accingo a preparare la cena Però non ve la faccio vedere adesso Dopo Appena torna a Yuri che è sotto Sorpresa sorpresa Gnocchi al pomodoro Salsiccia e basilico Con pomodoro, cetrioli tagliati alla cazzo di cane e salmone Buon appetit Oggi sembrerebbe anche essere un giorno speciale Per chi crede nel transito della luna in congiunzione Se stile trigono a Saturno Mentre Mercurio si trova in sesta casa Pronto a mettertelo nel di dietro E io sono fra quelli, ci credo Oggi è il giorno di nuovo Oggi è il giorno di nuovo Oggi è il giorno di nuovo